Ragazzi, prima di lasciarvi al video, due cose veloci. La prima è che quest'oggi siamo in live alle 15 per una 6 ore di Smash, che terminerà alle ore 21. Questa è una scommessa che avevo con i miei sub di un po' di tempo fa, quando ancora facevo circa 30 spettatori con Pokémon. Dopo aver ripreso un po' i fondamentali del gioco, faremo delle viewers battle con voi spettatori, al quale potrete partecipare tutti quanti presenti in chat, mentre verso le 18, 18.30, fino a più o meno fine live, si terrà un torneo con i sub. A proposito di sub, io vi ricordo che se avete Amazon Prime potete subbarvi gratuitamente e che se durante questa live dovessimo ipoteticamente raggiungere la quota di 20 sub, sbloccheremo una 6 ore di CapEd. Chi ha giocato CapEd sa quale sia il problema di questa affermazione, quindi se avete Amazon Prime sappiate che potete contribuire a farmi fare CapEd in maniera gratuita. Ultima cosa, prima di lasciarvi a questo meraviglioso highlight, abbiamo finalmente un canale Telegram, dove i moderatori, Dio li benedica, vi avviseranno di ogni appuntamento sia su Twitch che su YouTube. Ve lo lascio in descrizione, sarà il secondo link dopo quello di Twitch. Vi prego, passate, perché altrimenti poi mi chiedete quando streamo questo, quando streamo quell'altro e io vi timeouto perché basta. Adesso che c'è il canale Telegram non avete più scusa. Ho detto tutto, come al solito mi sono anche dilungato troppo, vi lascio la highlight. Godetevelo, perché ne vale la pena. Bene, il team non è cambiato di una virgola, se no per il fatto che Zigzag non ha più strumenti, era CrossPins, AirNinja, Spotify, Armaldo. Ma qui giù c'è chiaramente una Carmella Lara? C'è un problema ragazzi. Sono troppo forte. Notte in doppio, siamo costretti, abbiamo Mr. Albero. Attenzione 025, questo sta per mandare Koffing. Le top nemesi dello scorso episodio. Allora, io mi auguro davvero di no. Lo sentite a quest'autore? È autore dello strumento di Zigzagoon. Cura totale, fantastico. Cura totale che in realtà è quella psichica che dobbiamo fare. Questo è un avicoltore che io ho messo davanti a Airacross. Albertino, avicoltore. Manda in campo. Beh, c'è ovvio. Penso il Pokémon peggiore che tu possa mandare in campo sia lui attualmente. Questo era one shot garantito. Protezione, certo. Non avevamo dubbi, tranquillo. Non ti preoccupare. Eh certo, aspetta. Puoi prendere una terza per piacere. Adesso tiro una testata al mobile. Ok. La mia testa è salva anche oggi. Come se la cava la tua squadra di Pokémon? Ma la mia squadra non se la cava. In realtà più se la grotta. Io vi posso giurare che quel pelato non l'ho visto. Rendiamo questa serie un po' più divertente. Buondì, dottora. E il fatto è che quando si è forti come me, ragazzi, c'è poco da fare. Azzè, I have an advice for you. Give yourself to the hippie guy. Bene. Semplice. Non ho assolutamente perso 15 anni di vita. Ma! Italo. Ehm... Ghigliottina ai Tato. Cinciavo e Carvagna. Aaaaaah! E quando si è bravi, si è bravi, ragazzi. C'è poco da fare. Patrizio nuotatore. Allora, io non farò ghigliottina. Cioè, io potrei comunque provare a scrivere la storia, no? Viva la Repubblica! Bene, c'è una bellissima clip per il video. Sono felicissimo. A te risparmierò la... Decapitazione. Coso, lo sai che dopo quelle tre ghigliottine di fila il karma ti prenderà e ti farà dell'amore a sorpresa. Ovviamente mi dissocio. Mi dissocio anch'io dall'amore a sorpresa. Ma no, ma vinciamo 100-100, ragazzi. Percorso 125. Ma ciocca e breccia non lo manderò mai. Può capitare, no? Può capitare di essere così forti da non rendersene conto. Come? Eccessivo. Meno male che abbiamo Armaldo che ci permette di non morire. Non mandare paper. Eragross ha sconfitto le turbe dell'amore che ricordiamo essere illusione dettata dal desiderio di procreare. Noi non procreeremo con i pesci! Scusatemi, oggi non ho preso le medicine, capitami. Breccia su Namel e ghigliottina su sua blu! Signori, abbiamo un team quasi logico in questo momento. Cioè, i livelli sono tutti sul 40, sono tutti abbastanza vicini. Poi certo, Armaldo è al 25.000. Zigzagoon, adesso mi darò un'altra caramella rara per farmi ripagare dal tu. Vi spiego la lore, ragazzi. Strumento che è difficile da ottenere, come potete vedere. Strumento a cui devi fare delle rinunce. Questo significa che è sicuramente una caramella rara. Come potete vedere, Zigzagoon, ancora una volta, dimostra che evidentemente non siamo degni della sua fiducia. Ora possiamo andare. Qui immagino di... È un peccato essere così forti, ragazzi, perché non ti diverti nemmeno poi, no? Oddio, ma che è questa mega orgia? E se vado di qua? È un'altra mega orgia incredibile! Perfetto! Beh, ma quanto sono forte! Ma che noia ha quasi questo videogame! Ma che palle, ma basta! Ma in chat, ma ditemi di perdere per piacere! Convincetemi a perdere! Perché se non lo faccio apposta io vinco se... Convincetemi a perdere! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.